Tantissimi ragazzi, anzi venite, divertiamoci, stiamo sereni, facciamo che il tre sera sia l'ultima serata in bellezza del nostro festival, dove dobbiamo solamente divertirci e stare sereni, quindi con calma, tanto si entra tutti, quelli che hanno il biglietto entrano tutti, con calma, il concerto si vede da ogni angolazione della piazza, poi sarà un bel concerto, dobbiamo solo divertirci, quindi un appello a divertirci solamente.